e lo facciamo perché andiamo a raccontare di un evento classico di Legambiente che si tiene appunto nel corso di queste settimane, insomma verso la fine dell'estate uno sguardo sulla salute dei ghiacciai in Italia, si parla della carovana dei ghiacciai viene portata da Legambiente assieme a esperti vari del settore ce lo facciamo poi raccontare un po' meglio, da chi ritorniamo insomma a contattare per Legambiente appunto Vanda Bonardo, bentornata su RBE, buongiorno Buongiorno, buongiorno Allora io ho raccontato insomma in maniera forse un po' raffazzonata di che cos'è la carovana dei ghiacciai principalmente perché volevo affidare a te insomma un riassunto di che cos'è questa iniziativa come si svolge e qual è l'obiettivo e quindi insomma ci può un po' riepilogare di che cosa stiamo parlando Sì, sono sei tappe, sei tappe sull'intero alco alpino la grande novità di quest'anno è che la campagna sarà internazionale per cui avremo quattro tappe in Italia, una in Austria e una in Svizzera la dimensione internazionale è stata fortemente voluta dalla sottoscritta così come dall'associazione proprio perché la natura non conosce confini e men che meno i cambiamenti climatici quindi l'intenzione di allargarci per noi è fondamentale anche perché sempre di più vogliamo un confronto anche con gli esperti non solo italiani ovviamente anche quest'anno lavoreremo col Comitato Graciologico Italiano e appunto per questa necessità abbiamo coinvolto anche le Cipra ovvero le Commissioni Internazionali per la Protezione delle Alpi dislocate lungo tutto l'arco alpino Quindi insomma una serie di visite su alcuni ghiacciai scelti immagino perché particolarmente utili per questo tipo di ricerca per andare a capire appunto come stanno questi ghiacciai e immagino che il dato principale da tenere sott'occhio è la quantità di ghiaccio che c'è in queste aree che sappiamo in continua diminuzione Sì, per noi è fondamentale il monitoraggio quindi le misurazioni che in parte faremo sul campo e in parte utilizzeremo dei dati già esistenti perché non sempre è così facile e così immediato produrre dei dati E' chiaro che questi dati ci raccontano di una situazione che ahimè sta peggiorando che è appunto l'aumento della crisi climatica l'incremento della crisi climatica e quindi sicuramente noteremo delle regressioni forse non così consistenti come lo scorso anno perché l'anno scorso è stata la tempesta perfetta però dalla sensazione che ho la situazione non è sicuramente rosea e tutto questo però ci servirà anche per andare oltre perché oltre a raccontare come dicevo vogliamo costruire questa rete di relazioni internazionali ma anche coinvolgendo le amministrazioni locali nel senso che una volta che abbiamo capito qual è la situazione dobbiamo capire che cosa fare che cosa fare da un lato sulla mitigazione quindi mettendo meno CO2 ma dall'altro anche su tutte le questioni dell'adattamento e i comuni di Montagna sono fortemente coinvolti per questo rilanciamo la carta di Budoia Ok, puoi raccontarci un po' di più su questo intento? Sì, sì, sì la carta di Budoia è una carta che è stata scritta nel 2017 poco insomma un po' prima del Covid è una carta attualmente validissima perché le problematiche sono le stesse sono semplicemente un pochino acuite è stata scritta dai comuni della rete di alleanza nelle Alpi quindi già comuni su una dimensione europea legati a Cipra e alla Convenzione delle Alpi insieme alla delegazione italiana nella Convenzione delle Alpi del Ministero quindi è una carta che è stata ben lavorata è un atto, un intento volontario però ha un suo significato a livello istituzionale non indifferente e noi racconteremo appunto della necessità di sottoscrivere questa carta e quindi sottoscrivere questo impegno per l'adattamento ai cambiamenti climatici e questo varrà per i comuni che incroceremo nel nostro viaggio ma vale per qualsiasi comune per cui se all'ascolto ci sono amministratori che vogliono sottoscriverla invitiamoli a prendere contatto con la sottoscritta perché è fondamentale costruire questa alleanza perché un'altra parola chiave di quest'anno è l'alleanza delle popolazioni nelle Alpi Eh sì esatto sempre è un po' scomodo come dire mobilitare delle decisioni dall'alto invece il coinvolgimento dei comuni coinvolte delle comunità coinvolte è un po' più interessante interessante anche andare un po' al di là dei confini parlando di comuni parlando di aree locali forse nel corso di questi ultimi due anni tu parlavi per quanto riguarda l'anno scorso della tempesta perfetta forse questi sono stati anni in cui ci siamo accorti in maniera ancora più lampante di che cosa vuol dire perdere i ghiacciai perdere l'innevamento sulla cima delle nostre montagne io non passo di fronte a nessun ghiacciaio mentre vengo al lavoro passo però attraverso ad esempio il chisone attraverso qualche torrente e li vedo molto prosciugati ora chiaramente la verdita di ghiaccio e dei ghiacciai non è l'unico motivo per cui c'è poca acqua per cui c'è la siccità però c'è un collegamento comunque più perdiamo ghiacciai più perdiamo anche acqua a valle quindi non è soltanto una questione di chi vive legata a chi vive nelle Alpi anche chi sta a valle ne subisce le conseguenze e beh ora più che mai diciamo la connessione metromontana ha da esistere come dice l'amico Beppe De Matteis cioè la montagna è cortamente collegata alla città e viceversa io credo che ce ne siamo accorti tutti quanti nella primavera prima delle consistenti nevicati di maggio quando si vedeva il Po in secca e il Po è alimentato sì dalle piogge ma anche dalle nevi quest'anno non è caduta neve ne è caduta la metà del necessario per fortuna è stato recuperato col mese di maggio e abbiamo visto i risultati in pianura e quindi insomma quando si vive in città ci si deve assolutamente rivolgere alle montagne per ripensare alle montagne e capire quanto è fondamentale conservare alcune risorse naturali e quindi ritornando alla carovana dei ghiacciai che ha proprio l'obiettivo di monitorare di fare comunicazione di fare anche attivismo attorno a questo tema l'abbiamo raccontato in maniera un po' vaga ma magari raccontiamo qualche dettaglio un po' più specifico si parte dal 20 agosto quindi tra qualche giorno immagino siate nel pieno delle preparazioni per la partenza ci puoi raccontare giusto qualche etapa magari non tutte però insomma per darci un'idea di che cosa visiterete intanto ricordo che le iniziative sono aperte a tutti quanti i nostri programmi sono sulle pagine facebook di legambiente di cipra sulla mia pagina sui siti e quindi è possibile vedere insomma come è organizzato il programma intanto noi partiremo con RUTOR ghiacciaio valdostano è un ghiacciaio bellissimo che è fortemente in sofferenza e lì lavoreremo con l'ARPA a Valle d'Aosta insomma tanto per dire come lavoriamo a stretto contatto con tutti coloro che studiano i ghiacciai dopodiché passeremo sul Belvedere sempre in Piemonte nel nord del Piemonte ecco nel caso del Belvedere lavoreremo anche con il CNR soprattutto per la parte che riguarda l'instabilità dell'alta montagna perché non ne abbiamo parlato oggi ma un altro fenomeno conseguente ai cambiamenti climatici è quello dell'instabilità e non solo instabilità ma anche l'aumento degli eventi estremi in un luogo che è particolarmente fragile perché sappiamo quanto la montagna è fragile poi insomma da lì proseguiremo e ci sono tante altre cose da raccontare se avremo l'occasione di risentirci ne parleremo perché ogni tappa ha una sua caratteristica con incontri con i giovani amministratori flash mob conferenze stampa escursioni musica artisti insomma c'è parecchia roba esatto noi cercheremo magari di raccontarlo poi magari potremo risentirci a viaggio concluso in modo da fare un po' un riepilogo poi magari tappa per tappa secondo dei comunicati potrò darne un po' notizia rispetto all'instabilità delle montagne raccontavo proprio nella prima parte della puntata di quello che è successo a Bardonecchia appunto non si parla in maniera specifica di ghiacciai ma si parla di eventi estremi in montagna insomma è tutto da tenere assieme nello stesso calderone io allora ti ringrazio molto Vanda ancora per questo racconto ti lascio la preparazione di questo viaggio magari tanti in questo periodo stanno preparando altri viaggi un po' più rilassati e voi invece partite con gli zaini verso la montagna ma immagino ci sia anche un lato piacevolo in tutto questo in ogni caso grazie mille buon viaggio e magari appunto ci risentiremo per sapere come è andata grazie a voi e seguiteci